Graffito eccolo qua, Tomo, ma non c'è o perché? E ragà quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars, nei messaggi o da riscattare una robetta molto interessante Ma perché ho due notifiche? Dovrebbe essere una sola Ah beh, il primo, ok, sull'eliminatorio online, Brawl Stars Championship Perché siamo andati a giocare in questo video se non l'avete visto, due droppettini leggendari trovati Abbiamo, vabbè, un abbandono, non ci interessa Ma ecco qua, donazione di un graffito da riscattare Questo penso che sia il graffito più raro di Brawl Stars ragazzi Quindi intanto andiamo a ritirarlo ed eccolo lì Vabbè, diciamo che chi di voi è un po' bezzo a pin e cose vedendo questa C con questo quadrato verde Potrebbe aver intuito che si tratta di un qualcosa per i content creator di Brawl Stars Ecco, questo qua nello specifico lo possono avere solamente i, diciamo, i content creator di livello massimo Quindi quelli che hanno il codice creatore, l'app sviluppatore e ora anche questo Prima di questo graffito in realtà c'era quel mio avatar attuale, no, questo qua Che è praticamente uguale al graffito alla fine Solo che è da qualche mese che questo avatar lo possono ottenere tutti i creator Sia quelli che sono appena entrati nel programma dei creator di Supercell Sia i veterani come me Per quel che riguarda il graffito però Che vado ovviamente a selezionare Prima però vai a trovarlo Eccolo, era in fondo Ecco, questo qua, come detto prima Ce l'hanno solamente i creator di livello massimo Quanti saremo di creator di livello massimo? Vabbè, in Italia se prendi tutti i giochi Supercell saremo meno di 20 Vabbè, se prendiamo tutti quelli del mondo, sì, qualche centinaio Ma ad ogni modo pochissimi, non penso che ci siano altri graffiti così esclusivi Detto questo, allora qua abbiamo da prendere un po' di robetta Tra cui le due reazioni di drago Che ci andiamo a prendere Carina questa Oddio quella Pazzesca Quest'altra invece è arrabbiata di lei carina Poi abbiamo anche Beh, giustamente quella del giorno 2 Proprio del drago Mentre la del giorno 3 è proprio il brawler in sé per sé Abbiamo questa, ok E poi quella che applaud ci sta Molto bene Per ora siamo a posto Per il resto Qualche offertina Non mi interessa nulla Beh, però te devo dire Questa qua si è tanta roba Non tanto per loro Ma per i punti energia Si va a prendere Riga, qua ormai ci siamo E a breve arriverà Penso il video dove ci maxiamo Abbiamo ben quasi 30.000 punti energia Qua sono all'incirca 20 brawler Che possiamo fare all'11 Andiamo a vedere assieme quanti ne mancano Ne abbiamo 3, 6, 9, 12 15, 18, 21, 24 27, 30 E io ho detto circa 24 da fare all'11 Beh, praticamente ci siamo Molto bene Detto questo Andiamo a prenderci i drop del giorno Facciamoci qualche partitozza Andiamo a flexare anche il nostro graffito Qua su caverna rumorosa Con scelli soprattutto Già lo sapete Bisogna andare belli centrati Graffito Eccolo qua Tomo Oddio Ma non c'è Ma è buggato Niente È talmente raro Che non si può vedere A quanto pare Ma sapevo che fosse buggato In passato Ho visto il video Che caricò ferro ai tempi Attenzione qua intanto Tag Bello goloso Mi piace Però pensavo l'avessero fixato E invece no A quanto pare Proviamo ancora Vediamo Faccio di questo Eh vedi Non si vede Un po' particolare Oddio Vabbè amico mio Vabbè niente Per ora va bene Vabbè il primo Tuo amico mio Vabbè vai via Scappi Ci sta Però io vado di gadget E tu non puoi Ma io ho tolto No 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 Ups Che poi vabbè In quella situazione Non è che potessi far tanto Ma comunque Proviamo di nuovo Usare il graffito No ma penso che sia proprio Buggato Non esiste E niente Tu Rico mi sa che Non hai capito molto bene Oh Mi sa che ha capito invece Molto bene il bro Ha capito la grande Ma sai che con 240 HP Basta proprio che ti sfiori E ci vai giù Ha davvero senso Rischiartela così E tu ci provi E ci sta Però secondo me dovresti Recuperare la vita Io ce l'ho tutta Tu no Beh ti giuro amico mio Guarda Niente la sta recuperando Beh neanche tanto Sai cosa Andiamo nel centro Anche se a questo punto Secondo me nel centro Oddio dire che non possiamo Far tanto Non lo so Qua ci sono dei fight Molto gollosi Molto corposi Molto succosi Soprattutto Bellissimo Beh vedi Tre power up Intanto le abbiamo Forse avrei potuto Pushare il bull Con la super Ma va bene Così andiamo con calma Ci prendiamo i nostri power up Ok Facciamo così Facciamo cosa Facciamo coso Niente Ormai è andato C'è qualcuno Oddio In realtà Non proprio qua Andiamo più in basso C'è il primo Vabbè amico mio Il primo In teoria qua tu non puoi fare niente O meglio potrebbe forse Prendere la super Però devo colpirlo Se no non la prende Quindi cerchiamo di non colpirlo adesso Però c'è un buzz Bro ma dai Possiamo arrivare quarti nel chilling Devi darmi noia Push è il primo Eh ha preso la super Vabbè a questo punto Rigan di ancillati Ovviamente I bro si sono messi a timmare Ok Il primo E adesso Ok mi piace Vai dynamite Sì però Uh 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 Bello sto push Vabbè amico mio Bello Bella cassetta La prendo intanto E il primo qua Vediamo se Mi viene incontro Ci sta il gadget Hai fatto bene Riuscirò a sopravvivere Adesso ma no No peccato Se l'hai gestita bene Lei è il primo Ha usato un gadget In predict Molto interessante Qua penso che Oggi troveremo tre rare Invece vedi Già super raro Tra l'altro Pin di Seb Dai Ripartiamo Questa ce la facciamo su rapina Con il buon colto Vado ragazzi Per quando un bel like Vediamo su rapina Se funziona Ma penso che Non vada a nessuna parte Graffi totalmente raro Particolare Ma ci sta E qua Non penso che andrà a finire bene Provo a pushare Nita Beh ci vado giù io Inevitabile Tanto i miei bro Zitti zitti Stanno facendo il loro Qua la super sul corvettino La tiriamo Ok Se ci andassi anche giù Sarebbe tipo incredibile Buona Anche tu Nita ovviamente Non sarebbe male Peccato che ci sia andato giù pure io però Se riuscissi a raggiungere la cassa Diciamo che i miei danni dovrebbero essere belli corposi Oh così mi piace Gadgettino tattico Andiamo dritti per dritti sulla cassa Cerchiamo di fare più danni che possiamo per ora Comunque ci sta Vediamo se riesco Grande Larry Vivi vivi Un'altra hit almeno Bravo amico mio E che fe la butti sta hit Occhio che ripanita Tira l'orsetto Potrebbe essere un bel problema Ma in realtà neanche tanto Abbiamo fermato tranquillamente Dovrebbero andarci tipo giù tutti A parte il corvo Però noi intanto andiamo belli spediti Io sto anche per prendere un bello overdrive In realtà ce l'abbiamo adesso Facciamo di questo Sono andato a prendere anche la cassa vero? In teoria si Qua penso che ci darà un po' di noia Proviamo ad andare dritti per dritti Forse la kill è così buona Ok abbiamo vinto in teoria Si a voglia se abbiamo vinto A voglia proprio Molto bene Dai facciamocela sempre su rapina Stavolta con Penny Comunque zitto zitto Sto più o meno a fare tutti i brawler a 600 Senza che il mio obiettivo sia pushare O cose del genere ovviamente Giocando ovviamente piano piano si sale Cerco di usare tutti i brawler Come vedete nei vari video Di conseguenza è normale che sia così Poi vorrei tirare una bella torretta In un punto tattico Oddio non è che sia proprio un punto super tattico Quello Ma non è neanche un punto così terribile Gadget che ci sta un botto Uh bello Questi sono danni eh Vai torretta continua Gadget ancora Vediamo Bello altri danni Ci sta un botto Forse vinciamo così Non penso Però sai che forse No sai che forse Forse abbiamo vinto invece Bellissimo Popo devastati Abbiamo un altro troppettino Vediamo stavolta Ma tanto oggi non può andare Chissà quanto bene Anzi un altro super raro Te debbo di Ripartiamo Siamo stavolta su foot brawler E anche Bea è uno di quei brawler Che abbiamo lì lì Per le 600 coppe Due partite fatte bene E anche lei è a posto Si può dire Però qua attenzione Che c'è Macy Che mi sta tipo devastando Alla fine RT mi ha dato il colpo di grazia È riuscita a resistere amici Ma si sono troppo forti i miei amici Oddio per occhio che qua Brava Melody Questa mi sa che è una di quelle partite Dove carriano i compagni E ci piace Sempre bello farsi carriere da random Ora ripartiamo Gadget subito Pover senso Secondo me si in realtà Oddio vai Melody qua passa dritta per dritta Meno male no Qua faccio di questo Che buona Se me la passi In teoria faccio gol tipo Poi gli Niente La palla ragazzi La palla l'hanno lasciata indietro Passa per l'amica mio La palla La palla Vabbè vai tu Se fai gol Va bene lo stesso guarda E per chiudere in bellezza E che fai Non vai nelle duo Con il buon bobo natale A giugno soprattutto E per forza Vediamo Sempre su caverna rumorosa Per quello sto utilizzando il bobo E in squadra abbiamo Jesse Jesse qua La vedo particolarmente male Io andrei a prendere sta cassetta Ah no c'è gente Vabbè però te debbo di Pushare in questa parte di ma Ha senso Visto che siamo con Jesse Tu Maxine Non puoi scappare Dai Vabbè boh Effettivamente Scappare può Però intanto le cassette Sono nostre Ci accontentiamo Poi questa Queste altre due Eh qua Loro sono messi Oddio però No Attenzione bello L'ho distrutto Super qua sotto Che sicuramente gadget Potrebbe regalarci invece Grandi gioie Bellissimo Vai Jesse Forse con la torretta No non serve la torretta Ragione non buttarla così Qua spariamo nel centro Che qualche hit magari entra Va bene Te debbo di che A livello di power up La situa è decisamente buona Occhio che arriva un dynamite Pericolosissimo Oddio bellissimo Lascia lì Dov'è Eccola Buona Eh vedi alla fine Comp che più che altro Jesse Brawler che ho sottovalutato Ma a quanto pare Forse ci farà vincere la partita Li abbiamo tipo devastati Vabbè l'altro è Bull Che è quello di prima Direi di sì È bella per lui Vabbè ritiro tutto Best comp del gioco Probabilmente Jesse e Bo Comunque lui siamo qua Per vedere adesso Il droppettino finale Super raro Attenzione Tre super rari Guarda Per me questa è veramente Una grande bottarella Di Bullen Come si vuol dire Soprattutto per i punti energia Dai Regà detto questo Spero che Questo graffito Invisibile Vi sia piaciuto Così come il video Per il resto Mi raccomando Un bel like Iscrizione Scampanellata Tattica Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo